Ben trovati con l'informazione a cura di Meteocalabria.net. Sarà un weekend di bel tempo grazie alla permanenza di un forte campo anticiclonico su tutto il Mediterraneo. Sabato 14, sereno poco nuvoloso su tutto il territorio regionale e per tutta la giornata. Venti debolo a tratti moderati, decadranti nord-occidentali sul Tirreno, da nord-est sullo Ionio. Mari poco mossi, mosso sole al Medio Passo Ionio. Temperature stazionarie, caldo di giorno nelle pianure interne. Condizioni prettamente invariate per domenica 15, tempo stabile venti da nord localmente moderati. La tendenza per lunedì 16 non ci mostra alcun cambiamento. Dovrebbe proseguire l'azione dell'alta pressione, garanzia di gelo sereno poco nuvoloso su tutta la Calabria. Qualche nuvole in più solo sulle Tirreniche, ma senza fenomeni. Grazie per l'attenzione. Appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.